La scuola dei padroni La scuola dei padroni La scuola dei padroni La scuola dei padroni Allora, questa è una giornata di protesta perché oggi in Senato si stanno varando tutte le modifiche sia dei parlamentari ma anche dalla BCE, dai cosiddetti diktat europei che vanno a influenzare la politica italiana, che non riesce più a mirare a fare politiche verso il sociale, verso la scuola e per noi di fondamentale importanza investire nella cultura, nella ricerca, nell'istruzione per formare noi che saremo il futuro di questo paese. La direzione sta andando veramente al collasso. Non abbiamo garantito un futuro, non abbiamo prospettive di vita e poi si chiedono il perché delle menti che vanno all'estero. La città, se ci bloccano il futuro, noi lo chiamiamo la città. La città, la città, la città.